buongiorno piloti o buonasera piloti a seconda di quando vedete questo video oggi video interessantissimo sulle cinque cose da sapere se vuoi passare a dcs perché di questo video beh per due motivi fondamentali la prima è che in questi giorni ci sono dei saldi per quanto riguarda l'ennesimo saldo per quanto riguarda digital combat simulator che ti fa provare gratuitamente tutti i moduli e poi eventualmente se li vuoi acquistare tutto ti costa la metà secondo motivo per cui faccio questo video oggi è perché c'è un sacco di gente che mi chiede delucidazioni che vorrebbe passare su dcs ma non sa da che parte cominciare e vuole un po di informazioni in più premessa doverosissima ho lasciato fuori da questa mini guida da questa guida un discorso importantissimo che è il multiplayer il multiplayer merita da solo un video ad hoc che farò più avanti altra cosa importante è ti chiedo di guardare tutto il video e di aspettare a mettere un mi piace alla fine del video potrai decidere se vuoi oppure no un approfondimento sul tema da me trattato in questo video lasciando a questo punto un mi piace se raggiungerò 100 mi piace più di 100 mi piace capirò che siete e che sei intenzionato avere un focus maggiore sugli argomenti trattati in questo video ti ricordo di lasciare sempre un commento proprio per interagire e capire meglio su cosa vuoi delle maggiori informazioni in modo che io possa fare video che ti piacciono sempre di più e soprattutto che ti aiutino nella scelta di digital combat simulator ti ricordo che è possibile abbonarsi a questo canale come ha fatto nico rufo in modo da darmi la possibilità di provare cose nuove fare esperienze sempre diverse con i nostri simulatori di volo ti ricordo che puoi sostenere il canale anche attraverso i tuoi acquisti su amazon come partendo dal link qui sotto infine ogni mercoledì e ogni domenica la diretta twitch appunto sul canale twitch lorei bene detto questo direi che il momento di cominciare ma prima come sempre sigla bene ecco i cinque punti fondamentali che devi sapere prima di installare o per passare a digital combat simulator primo punto lo scaricamento dove avviene per scaricare dcs ai due canali principali il primo è il sito del legal dynamics ti lascio qui sotto il link dove puoi appunto prendere la risorsa il secondo è da steam digital combat simulator è completamente gratuito lo scaricamento del simulatore di volo è gratuito una volta scaricato tu hai due aerei chiamati in dcs moduli e una mappa la mappa che hai è il caucaso i due aerei che hai sono il tf 51 di mustang di cui tra l'altro avevo fatto nel race direttamente su questo video e poi hai il sukhoi 25 t attenzione il p51 mustang non è la possibilità neppure di sparare un colpo però ti serve ad esempio per volare e cominciare a capire come si vola su dcs il sukhoi 25 t è un aereo veramente completo molto bello molto interessante ma essendo di produzione sovietica hai il problema che hai tutte le scritte in cirillico e le unità di misura sono le metriche non quelle imperiali quindi devi stare attento anche a questo secondo punto gli aerei per dcs come ti ho detto precedentemente gli aerei per dcs sono chiamati moduli e sono anch'essi scaricabili in due canali il primo come sempre dal sito ufficiale di digital combat simulator il secondo attraverso steam attenzione se tu hai scaricato dcs da steam non puoi prendere gli aerei dal sito e viceversa cioè quando tu scarichi dcs da steam devi continuare a scaricare tutto da steam non puoi acquistare dal sito i moduli sono di due tipi ci sono dei moduli prettamente chiamiamoli arcade cioè non completamente cliccabili non hai tutto il simulatore hai soltanto gli strumenti e le funzioni principali non hai tutto ci sono però poi moduli invece che sono completamente cliccabili che sono completamente sviluppati anche se in questo periodo ce ne sono tantissimi in early access come si fa a distinguere se un modulo è completamente cliccabile oppure no in maniera estremamente semplice dal prezzo prendiamo ad esempio la 10 la 10 ai due versioni da 10 a e la 10 c la 10 a costa meno ed è il modulo più arcade la 10 c invece è il vero e proprio simulatore sono moduli gli arcade ad esempio attualmente l'f15 il su coi 33 sono moduli invece completamente cliccabili l'f16 l'f14 l'f18 e anche altri aerei che tu vedi con una fascia di prezzo più elevata rispetto agli altri esistono anche moduli free io te ne consiglio due uno di produzione italiana e un altro no il primo modulo che ti consiglio è una vera propria mod la trovi all'interno delle frecce tricolori virtuali ed è lmb 339 aereo training e aereo molto bello ottimamente sviluppato avevo parlato anche con le frecce tricolori virtuali direttamente in questo video qui la seconda mod che ti consiglio è la 4 e trovi il link qui sotto in descrizione e ti posso garantire che è un modulo ottimamente realizzato e che ti permette anche di atterrare sulle porta aeree in quanto ha il gancio veramente un modulo ben sviluppato ben fatto terzo punto gli scenari quando scarichi digital combat simulator tu sei in uno scenario hai quindi una mappa la mappa che hai è la mappa del caucasus la mappa che è al confine fra la georgia e la russia una zona molto vasta sulla quale puoi volare tranquillamente perché ti viene data già di default per digital combat simulator per dcs presto uscirà una nuova mappa gratuita questa mappa sarà mariana island io non so quando uscirà comunque ne avevo parlato in questo video qui dcs ha poi altre tre mappe una che riguarda la seconda guerra mondiale e due diciamo attuali le altre tre mappe sono il golfo persico persian golf di cui avevo fatto un video anche qua il nevada scenario che io utilizzo per tutti i miei tre e che puoi vedere qualcosa anche qui e infine la mappa della normandia riservata diciamo così a tutte le missioni sulla seconda guerra mondiale attenzione anche qui prestiamo attenzione una cosa se scarichi o hai scaricato dcs da steam devi necessariamente comprare la mappa da steam sì perché queste altre tre mappe sono a pagamento in questo periodo le puoi provare tranquillamente senza costi aggiuntivi ma poi dovrai acquistare una cosa molto importante da dire il nevada è una mappa piccolina ma che puoi utilizzare tranquillamente per i tuoi training perché è veramente versatile il golfo persico invece è una mappa molto grande molto belle e ottimamente realizzata ma ha pochissime montagne e tanto mare punto 4 la portaerei come hai visto su digital combat simulator ci sono aerei imbarcati tra cui l'arrier tra cui l'f4 di cui avevo parlato prima tra cui l'f18 più gli aerei russi che atterrano sulle portere su digital combat simulator quindi ci sono le portere puoi mettere le portere sia che queste siano sovietiche o russe sia che queste siano americane in questi giorni sta per uscire una portere nuova che sarà un modulo a sé e anche questo sarà a pagamento attualmente la portaerei presente su digital combat simulator è una portere che ha la possibilità di preselezionare precaricare quattro soli aerei cosa significa? che tu le puoi utilizzare nelle tue missioni e puoi mettere al massimo quattro aerei ma atterrare quanto vuoi e in quanti volete soprattutto questo è un discorso importante nel multiplayer e che vedremo in un prossimo video la supercarrier che è invece il modulo a pagamento avrà la possibilità di poter caricare si dice spawnare ben 17 aerei al di sopra di questa nave inoltre sulla supercarrier saranno presenti anche degli omini che si muoveranno e che ti aiuteranno a posizionarti sulle catapulte di questa nuova supercarrier ancora non si può provare niente avevo fatto anche un video a riguardo direttamente qui attenzione se acquisti la mappa del nevada non potrai posizionare una supercarrier una portaerei perché? perché il nevada si ritrova all'interno di un continente pertanto una nave non arriverebbe mai anche se sul nevada c'è uno specchio d'acqua molto grande non puoi comunque caricare ricordati che quando la supercarrier sarà disponibile se tu avrai scaricato DCS da steam dovrai comprarla di nuovo da steam punto 5 mission editor su DCS è possibile fare delle vere e proprie campagne abbiamo cioè in tutte le mappe che siamo andati a scaricare in tutti i terreni che siamo andati a scaricare ad acquistare la possibilità di inserire aerei in volo siano questi amici o nemici mezzi corazzati di terra strutture case fabbriche eccetera tutte queste cose concorreranno a costruire una vera e propria missione attenzione una missione costruita con mission editor è totalmente programmabile vedi un tutorial che avevo fatto direttamente in questa playlist dove potrai vedere come si costruisce in maniera iniziale una missione una mappa il mission editor è comunque uno strumento estremamente potente ma anche estremamente difficile da comprendere e da capire quindi necessita di conoscenze abbastanza avanzate che acquisirai nel tempo utilizzando sempre di più digital combat simulator con i mission editor potrai comunque fare missioni di training fare missioni di battaglia vera e propria e caricare tutto sul mission editor presto come ti ho detto farò un focus solo sul multiplayer Eagle Dynamics dà la possibilità a chi è poco esperto e chi vuole cimentarsi in qualcosa di molto strutturato di scaricare delle vere e proprie missioni che vengono chiamate campagne il costo non è elevatissimo di solito stiamo nell'ordine delle cifre inferiori di 10 euro comunque ci sono già campagne preimpostate e pronte anche tra l'altro molto interessanti e molto belle che però non puoi caricare sul multiplayer a meno che anche l'altro non abbia il multiplayer quella campagna bene spero che questo video ti sia piaciuto ti ricordo che se vuoi un approfondimento di tutto quello che io ho detto oggi lascia un mi piace se raggiungerò il 100 mi piace o passerò ai 100 mi piace allora farò un focus su tutto quello che ho detto ti ricordo di lasciare i commenti qui sotto in modo da poter interagire e aiutarmi a fare contenuti che ti piacciono sempre di più bene anche per oggi è tutto happy landings by e live ciao 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 ciao